L'Asley Teramo al lavoro per coprire le carenze di inorganico ereditate da anni di blocco del turnover. Da inizio anno le assunzioni sono state 177 a tempo indeterminato e 259 a tempo determinato, ma per dare un'importante boccata d'ossigeno ai reparti ospedalieri è in arrivo un maxiconcorso per 90 posti da infermiere, a cui prenderanno parte circa 5.000 partecipanti e che sarà espletato entro la fine dell'anno. In una nota dell'azienda sanitaria riferisce che nei primi otto mesi dell'anno, grazie a un costante e fattivo lavoro dell'unità operativa complessa, pianificazione, dinamica e sviluppo del personale, sono state 104 le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti e 73 nel comparto. In particolare nella dirigenza sono stati assunti un sociologo, due biologi, un fisico e 96 medici, tre veterinari e un dirigente amministrativo. Nel comparto un assistente amministrativo, 5 ausiliari, 16 fisioterapisti, due assistenti sanitari, un logopedista, due tecnici della riabilitazione psichiatrica, nove tecnici della prevenzione, due audiometristi, cinque tecnici di laboratorio, quattro tecnici di radiologia, 17 infermieri, un'ostetrica, un collaboratore amministrativo, un collaboratore tecnico professionale e quattro os. A queste professionalità vanno sommate le assunzioni a tempo determinato. Sono infatti 38 nella dirigenza, sei farmacisti, 31 medici, un veterinario e 221 nel comparto, 144 infermieri, un assistente sanitario, due tecnici della prevenzione, 16 tecnici di laboratorio, quattro ostetriche, un collaboratore amministrativo e 49 os. Assunzioni che hanno permesso di dare un importante sostegno alla lotta al covid in un territorio, quello provinciale, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un aumento netto dei contagi. Inoltre, ieri sera una nuova persona è stata ricoverata in terapia intensiva dopo essere entrato dall'estero e aver fatto una sola dose di vaccino.